Stop all'alcol in piazza Guido Monaco. A stabilirlo sono due ordinanze del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli con le quali si vieta la vendita di bevande alcoliche dalle 13 alle 8 del mattino successivo ad un negozio di alimentari etnico e a un call center che insistono proprio sulla piazza centrale. Abbiamo applicato per primi in Italia il nuovo decreto che attribuisce ai sindaci oltre che delle responsabilità anche degli strumenti per poter agire nei confronti di fenomeni come quelli dell'alcolismo diffuso e molesto. Abbiamo ordinato a due locali presenti in piazza Guido Monaco di non vendere alcolici dalle 13 alle 8 di mattina quindi limitando l'uso degli alcolici nel periodo pomeridiano e notturno. Abbiamo costituito una struttura interdisciplinare che si occupa di degrado, che si occupa di disagio giovanile, che si occupa di illuminazione, ovviamente di polizia municipale, ovviamente di sicurezza per farsi di ridurre il più possibile questi eventi, queste brutte cose che tuttora purtroppo avvengono in città. Però devo dire in misura sempre minore. Quali sono stati i risultati di queste due ordinanze, soprattutto di questo tavolo interdisciplinare? Le ordinanze hanno partorito l'effetto che in piazza Guido Monaco c'è meno ubriachezza molesta di quanto c'era fino a qualche mese fa, perlomeno nelle ore pomeridiane, soprattutto quelle notturne. Andando verso l'estate sempre più si sentirà l'effetto positivo di queste ordinanze. Il tavolo sta lavorando e sta portando a termine innanzitutto il tema dell'acquisto da parte dei cittadini delle telecamere, quindi partirà a breve questo. Per il resto una nuova pianificazione delle zone illuminate, una nuova pianificazione dei servizi della Polizia Municipale che vanno un po' a rincorrere le zone nelle quali c'è oggi richiesta di una presenza degli uomini con la divisa.